buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale di ideamente nel video tutorial di oggi vedremo l'unione delle piastrelle della coperta del 2021 so che un video che stavate aspettando in molti e infatti stiamo arrivando verso la parte finale del progetto della coperta e quindi dobbiamo pensare a come assemblare i vari quadrati vi faccio innanzitutto una premessa dicendovi che se volete potete prima di andare ad unire i quadrati potete andare a bloccarli che cosa significa significa che le piastrelle prima di essere unite tra di loro possono essere messe in forma in pratica quando noi abbiamo una piastrella che non è perfettamente regolare perché magari ha un lato che tira un pochino o crea un effetto un po non perfettamente dritto come poteva essere il caso della piastrella numero uno possiamo mettendola in forma andare a risolvere questo problema cosa significa mettere in forma praticamente prendiamo la piastrella la vaporizziamo leggermente con il ferro da stiro ovviamente senza toccare il lavoro altrimenti lo andremo a schiacciare e il calore del vapore del ferro aiuta le fibre a distendersi e praticamente il quadrato prende la forma che vogliamo dopodiché lo stendiamo bene in piano su una superficie liscia che può essere appunto un tavolo coperto da un panno oppure se ce l'abbiamo anche un tappetino da bloccaggio come questo ad esempio un tappetino di gomma che ci aiuta a fissare il lavoro lo stendiamo bene bene e lo puntiamo in tutte le sue dimensioni con degli spilli in modo da fargli prendere bene la forma quadrata e anche la dimensione che vogliamo lo facciamo asciugare bene dopodiché il quadrato è bloccato ed è pronto per essere unito agli altri senza più problemi di irregolarità perché manterrà la sua forma questa comunque è un'operazione come vi dicevo assolutamente facoltativa però se volete farla quantomeno con i quadrati che vi sembrano un pochino più problematici rispetto ad altri potete benissimo appunto ricorrere a questo sistema in modo da avere un risultato poi esteticamente proprio perfetto per quanto riguarda l'unione noi abbiamo lavorato dei quadrati con un numero di punti e delle tecniche di lavorazione diverse abbiamo infatti lavorato dei quadrati in senso circolare come questo oppure questo qui o quest'altro ancora e altri invece li abbiamo lavorati in righe di andata e ritorno come questa piastrella qui o questa ad esempio di conseguenza non possiamo andare ad unire i quadrati direttamente durante la lavorazione ma dobbiamo farlo solamente una volta che li abbiamo terminati che li abbiamo lavorati qual è la sequenza da utilizzare per l'unione io li ho uniti esattamente con l'ordine in cui ve li ho proposti nei tutorial quindi sono partita dal quadrato numero uno poi il quadrato numero 2 il 3 il 4 e così via e li ho uniti così progressivamente uno dopo l'altro dopodiché sono tornata di qua quindi sempre da sinistra verso destra ho unito il 5 il 6 il 7 l'8 e così via questa però è una mia scelta nel senso che voi siete assolutamente liberi di fare come più vi piace quindi potete mescolare i quadrati nell'ordine che volete o anche seguire la sequenza che ho usato io ma in maniera inversa quindi partire da destra verso sinistra quindi fare 1 2 3 4 5 6 7 8 come preferite non c'è una regola in ogni caso comunque vi dico che io ho cercato di proporre i quadrati in maniera un po alternata perché se avete notato io ho lavorato una piastrella in senso circolare una righe successive un'altra di nuovo in senso circolare un'altra ancora righe di andata e ritorno insomma ho cercato di fare un po un mix di tecniche di lavorazione l'ho fatto un po per non annoiarvi e anche per creare un effetto movimentato nel lavoro pensando poi a come sarebbe diventata la coperta una volta terminata veniamo ora a come unire il tutto noi in genere per andare a unire dei quadrati abbiamo a disposizione due possibilità o li uniamo con l'uncinetto o li uniamo con una cucitura con l'ago unire i quadrati con l'uncinetto significa che sui lati di unione delle piastrelle andiamo a prendere i punti di una piastrella e i punti dell'altra e li uniamo con una riga lavorata o a punto basso o a punto bassissimo questo tipo di unione sicuramente ha un vantaggio c'ha di essere molto rapida da eseguire come svantaggi però la cucitura che risulta è abbastanza spessa e a volte può risultare anche un po rigida soprattutto se andiamo ad unire le piastrelle con dei punti bassissimi un altro vantaggio che possiamo avere però unendo con l'uncinetto è che andiamo a creare lungo i lati di unione praticamente una specie di cordoncino dato dalla presenza dei punti lavorati che può anche far comodo perché risulta come una rifinitura in rilievo secondo me però la cucitura con l'uncinetto è più indicata quando abbiamo le piastrelle che sono perfettamente uguali tutte con lo stesso numero di punti tutti con la stessa tecnica di lavoro e quindi abbiamo una maggiore regolarità in tutto quanto nel nostro caso invece avendo delle tecniche di lavorazione diverse e avendo anche eventualmente qualche piccola discrepanza qualche piccola differenza di misura tra le piastrelle proprio perché abbiamo tecniche diverse al di sotto secondo me la tecnica di unione più adatta è quella con l'ago quindi con un ago da lana quindi con la punta rotondata in modo da entrare nei punti senza problemi in modo da tenere una cucitura il più possibile discreta in particolare per fare in modo che la cucitura risultasse il più possibile proprio invisibile che non creasse disturbo io ho cucito le piastrelle a rovescio questo quindi mi permette di mantenere la cucitura nascosta perché proprio i punti della cucitura stanno dietro il lavoro e cucendo come vi mostrerò adesso l'unione rimane davvero molto più ordinata in particolare nel tutorial vi andrò a mostrare come unire due lati delle piastrelle in due casi vi mostrerò come unire due lati per così dire regolari cioè che sono entrambi formati dai finali dei punti alti come in questo caso abbiamo i punti alti su questo lato e i punti alti su quest'altro lato e quindi abbiamo una corrispondenza di punto su una piastrella e sull'altra e poi vi mostrerò anche come fare invece per unire un lato regolare diciamo quindi formato dai finali dei punti con un altro lato invece che è formato dai finali delle righe di andata e ritorno e quindi dove non abbiamo delle catenelle dei punti in corrispondenza dei punti dell'altra piastrella quindi vedremo entrambe le tipologie di unione ho girato quindi il lavoro sul rovescio e adesso andremo ad unire questo lato di questo quadrato con la piastrella della riga precedente questo è il quadrato numero 15 se ve lo ricordate questa è la sua parte rovescia in questi due lati abbiamo due margini formati entrambi da punti alti quindi abbiamo punti alti su questo lato e punti alti su quest'altro quindi siamo nel caso più facile diciamo dove abbiamo i punti regolari innanzitutto con una mollettina vado a pareggiare le due estremità cioè le vado ad unire insieme questo mi serve a gestire eventuali eccedenze perché magari può capitare che un quadrato sia leggermente più piccolo o più grande di un altro e quindi per evitare di cucire tutto e poi trovarmi alla fine ad avere un pezzettino che mi manca o che mi avanza faccio questo passaggio parto poi dall'angolo assicurando il filo con un nodo e ripassando nei primi due punti il primo punto della piastrella sopra e il primo punto della piastrella sotto almeno un paio di volte in modo che la cucitura sia ben assicurata dopodiché entro nel punto superiore della piastrella dall'alto verso il basso così e nel punto corrispondente della piastrella sottostante e vado a considerare in questa unione le due costine più esterne in questo senso qui abbiamo il margine della piastrella superiore considero la costina più esterna questa e prendo proprio questa con l'ago allo stesso modo nella parte dell'altra piastrella dove abbiamo appunto il margine e anche qui abbiamo la catenella del margine considero la parte più esterna e questa sarà la costina che prenderò con l'ago quindi prendo la costina esterna della prima piastrella e la costina corrispondente esterna della seconda faccio passare il filo e in questa maniera ho creato il primo punto di cucitura ritorno sopra e rifaccio lo stesso passaggio quindi prendo la costina esterna della piastrella sopra la costina esterna di quella sotto e le cucio così e proseguo in questa maniera lungo tutta la lunghezza cercando di mantenere una tensione regolare nei punti e cercando che la cucitura sia sufficientemente morbida cioè non devo assolutamente tirare ma nello stesso tempo nemmeno essere troppo troppo lasca proseguo quindi in questo modo su tutta la lunghezza i punti quindi come vedete devono essere appaiati nel senso che io prendo un punto della prima piastrella e il corrispondente punto sulla seconda piastrella eventualmente se su uno dei due lati dovessi avere un'eccedenza perché magari è leggermente più lungo e devo quindi saltare un punto cerco di distribuire questi salti in maniera omogenea sulla lunghezza cucciamo quindi per qualche centimetro e poi andiamo a controllare sul dritto per vedere che cosa che cosa è successo e vedete che si forma la linea con le costine che abbiamo praticamente lasciato libere e questo ci dà quindi questo margine molto ordinato su entrambe le piastrelle la cucitura risulta all'interno e anche poco visibile proseguiamo quindi su tutta la lunghezza fino alla fine del lato alla fine togliamo la clip cuciamo anche sulla parte dell'angolo finale ecco qui andiamo a ripassare un paio di volte anche nel punto d'angolo in modo da fermare bene il filo e poi facciamo un nodo e qui ho una codina che proviene dalla cucitura della fila superiore quindi sfrutto questa codina e faccio un nodino con il mio figlio in modo da assicurare bene il tutto poi ovviamente tutte queste codine dovranno essere nascoste sempre con l'ago una volta terminato tutto quanto ecco fatto se adesso andiamo a vedere sul dritto la nostra cucitura ecco qui abbiamo cucito questo lato questo effettivamente abbiamo ottenuto davvero una cucitura davvero perfetta andiamo ora a vedere che cosa succede quando almeno uno dei due margini è irregolare diciamo cioè non ha i punti finali come in questo caso ma è formato con le parti terminali delle righe di andate a ritorno ad esempio siamo ad unire la piastrella numero 16 che è questa qui e dobbiamo andare ad unirla alla piastrella 15 su questo lato quindi abbiamo questo lato che è regolare perché ha i punti alti e questo invece ai finali delle righe allora anche qui utilizziamo le clip e blocchiamo gli angoli in modo da fermare le due piastrelle partiamo dall'angolo in basso entriamo nel punto d'angolo della prima piastrella e nel punto d'angolo della seconda andiamo a bloccare il filo con un piccolo nodo così e poi per sicurezza vado anche a ripassare una volta in più all'interno dei due punti in modo da partire proprio con il filo ben bloccato ecco dopodiché proseguo andando a prendere un punto sulla parte diciamo della piastrella superiore e un punto su quella inferiore qui abbiamo il lato sopra che è regolare quindi come prima prendo le costine esterne dei punti e le collego con il margine inferiore in questo però non abbiamo delle costine interne o esterne perché abbiamo le varie righe di andate e ritorno quindi qui devo solamente riuscire a prendere un punto che sia possibilmente corrispondente con quello del margine superiore e andare a eseguire la cucitura sempre con lo stesso movimento di prima quindi da sopra verso il basso entro nel punto della piastrella nella parte sottostante ed eseguo la cucitura sempre con lo stesso tipo di tecnica cercando anche qui di essere il più possibile regolare sia nella distanza di un punto dall'altro sia nella tensione perché non devo anche qui né tirare né essere troppo lasca altrimenti la cucitura poi risulta troppo morbida e si potrebbe aprire anche qui se ho eventuali discrepanze nella dimensione cerco di gestirle saltando un punto ogni tanto e facendo in modo che questi salti siano il più possibile distribuiti in maniera omogenea sulla lunghezza in modo che non ci siano difetti poi arricciature o parti più strette e anche qui dopo aver cucito per qualche centimetro andiamo a verificare che cosa è successo sulla parte del dritto in modo da controllare di star procedendo bene e mi sembra insomma che stiamo andando abbastanza bene anche qui si viene a notare la costina che abbiamo lasciato libera e quindi si crea questa linea nella cucitura che è comunque molto bella da vedere crea proprio una bella rifinitura sul margine proseguiamo quindi in questa maniera su tutta la lunghezza fino ad arrivare all'angolo di questo lato grazie a tutti sfiro la clip quindi quando arrivo in prossimità dell'angolo prendo l'ultimo punto quello dell'angolo e lo ripasso due volte in modo da fermare bene la cucitura e blocco il filo qui ho quello che proviene dalla cucitura precedente quindi lo unisco con un bel nodo in modo da bloccare tutto ecco fatto e ripasso bene il filo anche nell'angolo un'altra volta in modo che non si creino buchi ecco poi ho ancora del filo che mi avanza per cui posso continuare ad eseguire la cucitura della piastrella anche lungo questo lato qui su questi due lati abbiamo entrambi i lati regolari perché questo lato ha i punti alti e questo lo stesso ha i finali delle catenelle dell'ultimo giro di questa piastrella per cui la cucitura ricade nel primo caso che abbiamo visto in questa maniera quindi andiamo ad assemblare tutti i quadrati come vedete già dopo aver unito i primi l'effetto finale è davvero interessante e particolare arrivati alla fine avremo la rifinitura finale della coperta cioè un bordo che correrà lungo tutto il perimetro e che servirà oltre a conferire al lavoro un aspetto più definito e più completo anche ad uniformare i bordi che potrebbero ancora risultare un pochino irregolari date le diverse lavorazioni dei vari quadrati il bordo però sarà oggetto di un successivo tutorial che uscirà dopo tutti quelli di tutti i quadrati e quindi andrà a completare proprio tutto il progetto per il momento spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio di averlo guardato e fatemi sapere come sta procedendo il lavoro dei vostri quadrati se state provando a realizzare questo progetto io intanto vi aspetto qui sul canale per i prossimi quadrati e per i prossimi tutorial vi auguro un buonissimo fine settimana e vi aspetto con il prossimo video ciao ciao